Musica Buonasera, ben trovati. Il consiglio dell'IAFAV, l'associazione impianti a fune dell'Alta Valtellina, ha da poco deliberato la vendita di un documento per lo sci, una tessera unica, Bormio e Valli. Ne parliamo questa sera con gli impiantisti e gli amministratori dell'Alta Valle. Abbiamo con noi il presidente della comunità montana, Raffaele Colla. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Il vicepresidente Remo Galli. Buonasera. Bentornato anche a lei. Abbiamo il presidente dell'associazione impianti di Livigno, Valentino Galli, dell'associazione Schipass Livigno. Buonasera. Buonasera. E abbiamo il presidente dell'IAFAV, degli impianti a fune dell'Alta Valtellina, Valeriano Giacomelli. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Ovviamente i nostri ospiti hanno più di un incarico, poi vedremo nel corso della nostra trasmissione per quale ambito si esprimeranno. Ho detto, il nuovo consiglio dell'IAFAV ha da poco deliberato la vendita di un documento unico per lo sci, la tessera, Bormio e Valli. Un prodotto questo che è destinato a cambiare anche gli scenari dell'offerta turistica, ma non solo. Una proposta e un documento che è stato accolto con grande favore da tutti. Valeriano Giacomelli, possiamo dire una svolta epocale? Più che svolta epocale, dobbiamo dire che tutti assieme siamo riusciti a individuare un prodotto che ai fini promo commerciali potrebbe essere un prodotto da poter vendere e promuovere. Questo prodotto vorrei ricordare che c'era anche prima, forse non ben proposto, ma da tempo vi è la tessera regionale che come sapete vale in tutte le località sciistiche della regione Lombardia. C'è pure la tessera così denominata Alta Valtellina, che non sarà bellissimo il nome, ma comunque la tessera Alta Valtellina che vale, comprensiva degli impianti di Livigno, che questa tessera addirittura permette di accedere anche in Engadina, in sostanza mostrando la tessera Alta Valtellina beneficia uno sconto sullo schipaggio giornaliero del 50%. Abbiamo voluto fare un passo in più, c'era comunque anche la tessera che fino all'anno scorso è dominata Bormio Quattrovalli, così era chiamata, oggi abbiamo preferito, sperando e auspicando che Bormio Marketing riprenda il suo percorso e quindi si vada nel verso giusto, abbiamo individuato il nome di questa tessera che è comprensione reale, che appunto ha la validità di Val di Dentro, Oga, San Colombano, Bormio e Santa Caterina, denominata Bormio Valli. Noi ci auguriamo appunto che questo sia un prodotto, che tutti recepiscono la validità di questo prodotto e si possa promuovere meglio il territorio. Ecco, ha detto che esistevano già altre tessere, oltre a quella regionale Alta Valtellina, la Quattrovalli, la Duevalli e se non ricordo un'altra stranezza, la Duevalli e mezzo, qualcosa di simile, però insomma mi sembra che adesso questi prodotti che troveremo saranno ben definiti e diversi. Allora, poi c'era di tutto di più, ma comunque diciamo la stagione 2015-2016 sarà posta sul mercato, la solita tessera regionale che sappiamo, la tessera Alta Valtellina a validità a punto Livigno e la tessera Bormio Valli, eccezione fatta per le stazioni sciistiche che possono commercializzare la tessera le quattro ore, le risalite e la giornaliera. Tutti i lati tessera saranno denominate Bormio Valli, quindi un impegno preciso di vendere la tessera a Bormio Valli. Benissimo, Raffaele Cola, lei è d'accordo che l'offerta turistica può cambiare con una tessera di questo tipo e che questa è una scelta eccezionale dell'IAFAV? Sì, io sono davvero contento sia personalmente ma anche come istituzione di questa scelta perché sono convinto che il risultato che porterà questa scelta, che bisogna riconoscere, non facile, è fatta dagli impiantisti, ma hanno avuto la capacità, la forza e il coraggio di mettersi intorno a un tavolo e arrivare a delle determinazioni precise. Questo è un merito che gli va assolutamente riconosciuto, è doveroso dirlo e anche questo ha aiutato a creare un clima sicuramente diverso nei confronti e nelle problematiche che loro pongono. Io sono convinto che questa tessera abbia un valore importante, proietteremo sicuramente il nostro territorio, la nostra promozione in una dimensione sicuramente diversa. Io mi auguro che questi sforzi che gli impiantisti hanno fatto sia recepito anche in termini di comunicazione da parte degli uffici turistici che sono deputati a fare questo e sicuramente mi auguro che questo sarà sicuramente un anno testa, però in prospettiva porterà dei risultati assolutamente positivi. Mi permetto di aggiungere che oltre a questo, un'altra scelta assolutamente unica per noi è quello che all'interno della Bormio Valli, che sarà promossa e voluta dagli impiantisti, c'è la possibilità di avere anche la Bormio Pass, che è un prodotto assolutamente unico, un prodotto straordinario che solo il nostro territorio è in grado di offrire o dare. Questo è un merito assolutamente importante, che anche qui sono state coinvolte le terme, un altro soggetto privato che è stato capace di mettersi intorno al tavolo e fare sintesi rispetto a delle problematiche generali davvero complesse. Comunque va riconosciuto davvero questo merito, questo sforzo agli impiantisti. Ecco, dopo torniamo anche su questa tessera, su questo pass. Remo Galli saranno contenti tutti gli amministratori di questi comuni che da tempo sollecitavano anche un prodotto di questo tipo. Sì, sicuramente, è veramente una bella notizia, nel senso, purtroppo siamo in competizione con località, con comprensori, basta andare in Val Gardena, dove davvero da anni loro hanno i collegamenti e tutto è più facile, quindi l'impegno che hanno fatto gli impiantisti è stato veramente un messaggio di apertura e credo che adesso come amministrazioni, come politica, tra virgolette, abbiamo l'obbligo di spingere, è davvero forte, sui collegamenti comprensoriali. Se non arriveremo a quel punto sarà davvero difficile competere, soprattutto con le stazioni ormai all'estero, dove ogni anno hanno un impianto nuovo e io credo che come comunità montana dovremo avere davvero l'obiettivo in questi mesi di preparare insieme agli impiantisti un'idea di collegamenti da Santa Caterina a Livigno e permettere davvero di creare un prodotto dove avvenga lo spostamento delle persone in maniera veloce e in maniera anche pulita. Quindi l'idea, secondo me, sarà quella anche di rivedere degli impianti obsoleti per poi andare magari in regione a battere la porta e dire che l'Alta Valtellina chiede i collegamenti, perché senza quelli saremo davvero in difficoltà. E parleremo anche di questo progetto, ambiziosissimo, ma io vorrei chiedere a Valentino di spiegare anche ai nostri telespettatori quanto è stato difficile arrivare a questa scelta, perché ogni singola stazione adotta delle misure diverse, quindi non era facile decidere su questo ambito. Io direi che è stato di grande aiuto l'esperienza già acquisita nella gestione dello Schipas di Livigno. Partendo dalla base degli elementi che si tengono in considerazione per definire i parametri all'interno di Livigno, si è ragionato e si è lavorato anche in Alta Valle per cercare di riuscire a trovare una quadra condivisa da tutti. Di fatto però tecnicamente noi non siamo riusciti ad adottare lo stesso sistema di Livigno perché il sistema passaggi non si adatta molto alle peculiarità dalle stazioni dell'Alta Valle. Si è dovuto scendere invece sul sistema delle giornate sci per cercare di far collimare il più possibile gli interessi dei vari partner delle stazioni che fanno parte della tessera unica Alta Valle. Di fatto restano molti dubbi nel partire perché bisognerà vedere all'atto della prova del fuoco del prossimo esercizio quanto sarà efficace il sistema che si è adottato per quest'anno e quante lacune invece riserverà questo sistema. Certo tecnicamente sarebbe stato più completo l'intervento se si fosse riusciti a inserire anche il discorso globale che facciamo a Livigno comprensivo pure delle giornaliere e delle tessere a ore. Chiaramente questo per il momento rappresenta un ostacolo insormontabile perché va detto che in Alta Valle soprattutto il mercato si basa sulle giornaliere ogni stazione abbiamo poi dovuto riscontrare dai dati elaborati praticamente consuma totalmente in loco le giornaliere. Una tessera giornaliere che viene venduta a Bormio abitualmente viene sfruttata per l'intera giornata sulle piste di Bormio così come per Santa Caterina. Leggermente diverso il discorso sul monte San Colombano perché qui ci sono due aree che si intersecano una con l'altra però il valore prevalente era quello relativo allo sfruttamento sull'area sulla schiaria di Bormio e su quella della sci di Santa Caterina che ha fatto propendere per lasciare almeno per il momento fuori dall'accordo la giornaliera. In termini di numeri abbiamo riscontrato che nella stagione 2013-14 ci sono state la vendita di 66 mila giornaliere e di queste 66 mila, parliamo di tutto il comprensorio, solo 1260 sono relative a sciatori che si sono spostati da una stazione all'altra, cioè in percentuale è una cosa minimale che ben meritava di essere considerata a parte proprio perché i dati dimostravano che si poteva anche farne a meno. Però diciamo che voi avete pensato di proporre per questa stagione comunque questa tessera che quindi dai due giorni in su è comprensoriale più queste altre due tessera giornaliere la quattro ore per una prima stagione, dopodiché analizzerete i dati e deciderete se è il caso di intervenire anche come diceva per quelli che sono poi gli investimenti da fare perché se si aggiunge anche... Io vorrei sottolineare che la strategia è sicuramente forte nel senso che nell'area di Bormio e Valli purtroppo ultimamente il turismo organizzato è un po' latente o addirittura in calo di settimana in settimana. Il fatto di riuscire a coordinare insieme dà ampio spazio di poter riconquistare le cosiddette settimane bianche, riconquistare i clienti che caratterizzano per esempio il turismo di Livigno perché veramente c'è un divario rilevantissimo tra l'Alta Valle e Livigno perché Livigno è affezionatissima alle settimane bianche e cerca con tutte le forze questo tipo di turismo contro quello che è l'andamento di Bormio e Valli che si appoggia più di tutto sugli weekend ma comunque ha dimenticato, ha perso un po' quello che era stato il faro conduttore del turismo in Alta Valle negli anni 70-80 e ha abbandonato quello che era il traffico organizzato, il traffico delle agenzie, ha abbandonato invece adesso con la possibilità di vendere una tessera unica per tutte le valli già ci ha dato la possibilità in questi giorni di constatare che gli interlocutori delle nostre stazioni trovano difficoltà a digerire questo prodotto perché vuol dire in qualche maniera difendere la vendita dei settimanali che fino ad oggi invece era oggetto di una libera trattativa purtroppo sempre al ribasso perché gli operatori dell'area approfittavano della non intesa fra le stazioni e approfittavano nel senso che hanno sempre sottopagato il prodotto che noi offriamo pur in presenza di impianti moderni ed efficienti e anche in presenza di piste veramente interessanti nonostante il nostro prodotto sia di prima qualità siamo sempre pressati dal discorso prezzi quindi non siamo in grado di difendere una linea dura di mercato e dobbiamo sempre subire quelle che sono le richieste dei tour operator che operano nell'area Ecco, Valentino Galli ha spiegato molto bene quali potrebbero essere i futuri scenari vantaggi con questa tessera unica vantaggi insomma notevoli perché oltre ad avere un prodotto diciamo d'immagine voi proporrete un prodotto oggettivamente interessante per chi sceglierà Bormio e Valli ma sarete anche in grado di avere un potere maggiore nelle trattative perché vi presenterete uniti e non sarà più possibile andare da ogni singola stazione probabilmente a mercanteggiare anche su queste tessere o sbaglio se così fosse Valeriano Giacomelli le chiedo ma allora perché Bormio e Santa Caterina sono state così titubanti in questa decisione? Sicuramente questo prodotto ci permetterà di mantenere un minimo di prezzo prima invece era un po' diverso quindi i tour operator purtroppo pochi che frequentavano le nostre località al di qua del Foscagno andavano a mercanteggiare quindi si giocava al ribasso vuoi andare su Val di Dentro? A chi vendeva meno? Esatto, era un po' il gioco di chi era più capace di trattare sicuramente c'era una località con più appeal altre meno ma di fatto c'era questa problematica questo prodotto fa sì che tutti gli impiantisti debbano mantenere con un criterio, con un accordo siglato e quindi con un programma ben definito dobbiamo mantenere i prezzi che sono stati imposti con un criterio di scontistica in base ai gruppi numero di persone, agenzie e quant'altro valutiamo anche se c'è una clientela dell'est europeo piuttosto che una clientela italiana perché sono dei prodotti particolari e anche il numero delle persone che verranno e quindi i gruppi di un certo tipo ma questo prodotto ha fatto sì anche che le due, se vogliamo, le due società che erano presenti sul versante Val di Dentro e Oga di Val di Sotto San Colombano esatto, per capirci alla scheda San Colombano sarà non più possibile vendere a testa anche la giornaliera quindi un ulteriore accordo raggiunto in quella sede che è stato molto positivo si potrà scelare quindi da Oga San Colombano con la testa già lo era, ricordiamo, già lo era però la gente è tendenziosa a scegliere un prodotto che costa meno perché così era, perché comunque era possibile già acquistare a testa a meno che il prodotto che gli viene offerto è così interessante esatto, dalla stagione prossima, oltre appunto diciamo la Bormio Valli sarà posta in vendita anche per quanto riguarda le 4 ore e il giornaliero la testa che varrà non più solo isolaccia e non più solo Oga bensì la testa che vale isolaccia e Oga, quindi la zona San Colombano ovviamente questo ci impegnerà anche in termini di realizzazione di nuove infrastrutture e comunque abbiamo chiesto anche un apporto alla parte istituzionale perché serviranno a mandare avanti i progetti a creare e realizzare l'impianto di ennevamento sulla parte alta della montagna per garantire il collegamento vero e proprio un unico impianto un unico impianto, quindi poi sia società diversa, questo non vi è il problema però comunque questo è un ulteriore passaggio quindi, ora lo chiedo a Raffaele Colla quindi insomma, gli impiantisti hanno trovato un accordo importante tra di loro non era facile, adesso magari loro non lo spiegano ma probabilmente il problema dei canoni piuttosto che incide no? Su ogni singola... Spero di andare a parlarne dopo, certo a ogni singola stazione, però loro, forti anche di un appoggio delle istituzioni sono arrivati a questa decisione storica un primo aspetto importante, una prima questione messa sul tavolo quella dell'innevamento fondamentale, un costo rilevante per le società degli impianti un impianto unico posto in cima che possa creare l'innevamento unico e quindi naturalmente qui un problema di finanziamenti Certo, sono problemi enormi, sono problemi che le città impianti nell'incontro che abbiamo fatto in comunità montana, in serie di presentazione di questo loro progetto, ci hanno elencato una serie di problematiche complesse non nascondiamo, però che ci sentiamo davvero di condividere lo dico con tranquillità perché poi il volano che gli impianti mettono in circolo rispetto all'economia turistica è fondamentale se parliamo per l'inverno senza di quelli non possiamo pensare di parlare di stazione turistica invernale con gli impianti di un certo tipo, con gli impianti che funzionano con i colgamenti che siano a posto è chiaro che i problemi che loro presentano noi non li potremo risolvere da soli ma sicuramente una serie di incontri tra cui quello il primo che dovremo risolvere è quello dei collegamenti su gomma che vanno sicuramente potenziati e noi su questo ci siamo impegnati e lo riprenderemo da subito questo percorso perché delle risposte loro è corretto darle ed è giusto darle sull'innevamento dovremmo attivarci e capire se abbiamo la possibilità oltre che riprendere risorse anche poi come destinarle però è un percorso che ci sentiamo davvero di portare avanti quindi vi siete impegnati su questo fronte? assolutamente sì, siamo convinti e come ripeto l'economia nostra dall'Alta Valle è un'economia turistica ormai se togliamo due o tre realtà che possono essere a due abiti piuttosto che era levissimo a qualche artigiano o qualche impresa a metà meccanica importante credo che più del 90% della nostra economia è basata sul turismo se non ragioniamo in questi termini e ci proponiamo all'interno delle singole amministrazioni anche comunità montana con questo approccio io credo che gli impiantisti da soli non potranno fare niente ci deve essere una presa di coscienza forte anche da parte delle amministrazioni con delle scelte altrettanto forti e convinte che questo è la strada giusta la strada giusta loro lo stanno dimostrando intanto sono riusciti laddove molti enti ci hanno provato ma non sono mai riusciti a farlo ad unire queste stazioni che mi sembra una cosa molto importante anche perché presentarsi uniti anche in altri ambiti anche in provincia, in regione avrà un peso diverso che presentarsi singolarmente Remo Galli i trasporti e quindi i collegamenti tra queste stazioni verranno garantiti saranno potenziati e soprattutto come verranno effettuati anche i controlli immagino che anche questo non sarà facile sicuramente nel senso ha detto bene il presidente Lele vista l'impegno veramente forte di tutti gli impiantisti la volontà della comunità montana è quello da subito di ripensare un trasporto su gomma veloce che permetta di spostarsi da una località all'altra e nello stesso tempo come dicevo prima dobbiamo pensare al collegamento poi sempre visto in ottica di trasporto pubblico collegando gli impianti di scide nelle nostre località ha detto bene Valentino secondo me questo approccio che hanno dato gli impiantisti che poi possiamo anche rivedere magari in quello che è successo qualche mese fa che lo vedo come un segnale positivo dell'apertura dello Schipas Frilivigno lo Schipas Frilivigno verso l'Alta Valle è cambiata un pochettino la strategia non c'è più una strategia di farci concorrenza tra di noi ma siamo tutti intorno a un tavolo per far concorrenza poi alle altre località straniere e quindi è veramente importante spingere sui sei giorni spingere perché i tour operator tornino da noi e che non mercanteggino da una parte e dall'altra e dopo il vantaggio la marginalità non rimane all'impiantista non rimane alla nostra località ma rimane poi sostanzialmente al tour operator quindi secondo me è proprio la strategia che è cambiata ed è sicuramente un lato positivo per quanto riguarda gli impianti di collegamento ne stiamo già parlando ne avevamo già parlato in passato con l'assessore regionale alle infrastrutture del Tenno che ci ha sempre detto qualora ci siano dei segnali di unione degli impiantisti a quel punto Regione Lombardia ci sarà, ci sarà sul tavolo e potremo parlare quindi ad oggi abbiamo avuto questa bella novità e come comunità montana abbiamo già dei piccoli schemi diciamo di collegamento ne vorremmo parlare con gli impiantisti e poi andare veramente a bussare alla porta e chiedere queste risorse perché se non colleghiamo gli impianti da qui a 10 anni secondo me perderemo appeal rispetto ad altre località in Austria ogni anno collegano da una parte e dall'altra siamo andati a Lenzeride con il collegamento tra i due versanti con Arosa hanno aumentato del 13% le presenze e quindi dobbiamo arrivare lì anche a livello ambientale sicuramente si avrà un beneficio si dovranno togliere quegli impianti impattanti quegli ski lift magari tre nella stessa direzione che non servono con nuove funivie, nuove seggiovie ci serviranno dei soldi e lì bisogna andare a battere tutti assieme un po' alla porta di chi può La garanzia vi può essere presentando un progetto di questo tipo che le risorse si possano trovare visto che appunto non è un periodo di... Garanzie credo che ad oggi non ce ne siano però se siamo uniti operatori, impiantisti, amministrazioni e così via io penso che l'obiettivo ci sia perché è anche interesse poi dell'ente della regione o anche parliamo del governo italiano che se c'è un collegamento l'Alta Valle sta in piedi e porta a benessere porta tasse pagate allo Stato e così via via se muoiono gli alberghi muoiono gli impianti e muore tutto il resto probabilmente non si va da nessuna parte Valentino è auspicabile che in un futuro non troppo lontano insomma vi possa essere qualche collegamento per esempio si è sempre detto Bormio e Santa sono veramente ad un tiro di schioppo basterebbero veramente poche linee per collegarle io ho sentito il nostro rappresentante l'Alessandro Pedrini in provincia che praticamente è stato delegato a trattare l'argomento impianti di risalita con le relative difficoltà finanziarie il quale mi ha comunicato che ci sarebbero dai canoni delle acque in regione ci sarebbero 15 milioni che potrebbero dico potrebbero essere utilizzati anche per gli impianti di risalita per l'inverno per migliorare quello che è il collegamento va detto però che per esempio Bormio con Oga è stato recepito il discorso collegamento da parte del comune di Val di Sotto adesso che è stato approvato il PGT è stato recepito il collegamento è inserito il comune di Bormio invece ha rifiutato questa ipotesi cancellando dal suo PGT la tratta che va dal confine con il comune di Val di Sotto fino alla stazione di partenza dalla cabinovia di Bormio che da Bormio porta a Bormio 2000 l'ipotesi invece con Val Furva è stata accantonata almeno temporaneamente il collegamento in quota tant'è vero che il sindaco l'ex sindaco di Val Furva Saruggia aveva proposto di fare un collegamento partendo da Sant'Antonio non da non da Santa Caterina e portando il traffico in quota in maniera di intersecare gli impianti di Bormio e di rendere comunque poi molto più comodo il collegamento da Sant'Antonio verso Santa Caterina magari con il sistema gomma ovvio in alto in alto se dovessimo prendere come esempio il collegamento che ha fatto Arosa e Lenzeraide che praticamente ha collegato le due aree sorvolando una valle che si frapponeva fra le due aree con una funivia con una funivia veramente sì è una grossa novità è sicuramente un'attrattiva che per il momento può funzionare però dal punto di vista sia di posizionamento dell'impianto ma soprattutto di punto di vista della redditività il collegamento su Mittale attraverso la cima del ghiacciaio su Vretta a venire a Bormio 2000 la vedo molto complicata come soluzione fare una fune con un franco di magari 300 metri francamente mi dà qualche preoccupazione perché se si dovesse fare un intervento di salvataggio diventa veramente complicato raggiungere eventualmente le cabine che dovessero essere bloccate sulla funi e poi soprattutto difficile fare il recupero degli sciatori calandoli in un'area di sicurezza ma fortemente a rischio anche di smontamenti di neve di slavine quindi diciamo quella è un'ipotesi che non sta molto in piedi però diciamo l'idea è quella del collegamento bisogna trovare una soluzione che sia fattibile si è complicata ma soprattutto ripeto c'è una una seria difficoltà a trovare una soluzione che si possa remunerare da sola che riesca a produrre quel minimo di reddito da coprire le spese e possibilmente anche una fetta di ammortamento il discorso vuol dire semplicemente che impianti di questo tipo bisognerebbe fare come si fa abitualmente in Austria per esempio che negli impianti di risalita almeno in certe aree i privati non investono neanche un centesimo e lasciano il compito esclusivamente alle amministrazioni pubbliche sono le quello che i land che sono praticamente le nostre province provvedono a finanziare questi interventi io vengo cioè mia mia moglie viene da un'area dove gli interessi per lo sì ci sono ma i privati chiaramente non hanno interesse a investire niente e quest'anno per esempio è stata sostituita una vecchia una vecchia cabinovia che aveva 55 anni notate 55 anni da noi il ministero prevedeva al massimo una durata di 40 anni più 4 di prologa della vita tecnica questa aveva 55 anni era ancora carico manuale cioè voleva dire che le cabine venivano sospinte dal magazzino verso la linea di funzionamento in modo spinte manualmente dal personale e le ha rifatte il comune ha rifatto il cantone quello che sarebbe la provincia ecco chiamiamola così pagandolo completamente e da in seguito alle molte opposizioni che sono state fatte ha optato per fare una funivia e non più una cabinovia ovviamente la cabinovia aveva il vantaggio di non far attendere i clienti di velocizzare invece la funivia chiaramente oltre ad avere delle portate molto limitate perché ben che vada arriviamo a 600 persone ora o anche qualcosa di più ma allora bisognerebbe fare dei super impianti dal momento che in questa località bastavano le cabine da 90 persone si sono accontentati hanno fatto quello l'hanno fatta con estrema soddisfazione spendendo comunque intorno a 25 milioni per fare questo intervento se lo dovesse fare un privato chiaramente non ce la farebbe perché il costo sarebbe troppo alto rispetto ai potenziali ricavi dell'utilizzo di questo impianto noi abbiamo anche un altro problema tu dicevi bene il problema dei soldi ma con la regione Lombardia abbiamo un altro problema che è il piano territoriale PTRA un autogol secondo me pazzesco la regione Lombardia dice nuovi impianti da sci non se ne possono fare tra virgolette e questa è la battaglia che comunità montana con all'interno anche dei comuni se si pensa a Valdidentro Livigno che hanno fatto ricorso perché è il messaggio vogliamo far morire l'Altavalle se non può nascere un nuovo impianto da qui ai prossimi dieci anni è la fine quindi questa sarà la prima battaglia e che stiamo già facendo per far cambiare questo piano se pensiamo a Livigno che avevamo all'interno si pensava al collegamento di Pila scende la tre palle e a Pila che è stato tolto stanno togliendo il futuro dei nostri operatori della nostra gente quindi qui siamo all'opposto e dovremmo far capire alla regione Lombardia che non c'è solo Milano ma ci sono anche le montagne c'è lo sci c'è l'Altavalle che chiede anche almeno che la burocrazia non vada contro chi ha voglia di investire la nuova regia che hanno costituito dovrebbe servire proprio a questo e Uniti probabilmente anche come impiantisti il peso sarà diverso Valeriano Giacomelli abbiamo detto il problema dei costi insomma sull'impianto di innevamento avete chiesto questi finanziamenti poi ci sono i costi energetici avete chiesto anche le azioni per le concessioni insomma che cosa avete messo sul tavolo anche per risolvere i vostri problemi sicuramente per noi all'interno impiantisti è stato un momento non facile per l'attivo e questo va detto comunque l'abbiamo raggiunto ovviamente da parte delle istituzioni abbiamo fatto anche delle richieste richieste più generali quali erano per non entrare più nei dettagli un po' di diverse problematiche comunque la garanzia di avere i trasporti ossia visto che al momento non vi sono ancora impianti collegati da schiarellate chiediamo almeno a partire la settimana prossima che vi sia la garanzia di avere mezzi adeguati tempi di percorrenza certi se possibile e anche più frequenti teniamo presente che fino alla stagione attuale c'era uno spostamento minimale di persone in quanto tutte le stazioni al di là del Foscagno vendevano la tessera di località vendevamo circa 70-75% di tessere di sola stazione da stagione prossima cambia cambia la musica cambia la musica quindi tutte le tessere potranno saranno in circolo quindi di conseguenza teoricamente purtroppo pochi ma comunque abbiamo momenti dove comunque al di là del Foscagno vi sono circa tra le varie stazioni come sappiamo ci sono circa 11-12 mila presenze teoricamente tutti i signori potrebbero mettersi in moto non lo sarà sicuramente non lo sarà però dico buona parte di questi buona parte di questi per visto che c'è questa opportunità la voglia di andare a qualcosa diverso sicuramente quindi c'è da pensarci molto bene creare un servizio adeguato e ovviamente diciamo i possessori di tessera quindi con supporto una tessera degli impianti possono circolare liberamente e gratuitamente quindi noi abbiamo chiesto questo per quanto riguarda il trasporto in attesa di un progetto più generale che hanno già citato i precedenti che è quello comunque di collegare le schiare con sci ai piedi questo è un altro obiettivo che noi ci poniamo e quindi chiediamo alla parte pubblica di trovare una soluzione poi se non saranno le società che oggi gestiscono gli impianti sul territorio potranno essere chi che sia non è che diciamo per forza dobbiamo essere noi chi realizzerà gli impianti di collegamento benvenga se lo fa l'ente pubblico o altri soggetti noi vorremmo l'obiettivo è quello di riuscire ad avere un collegamento sci ai piedi tra le stazioni quindi la possibilità è partire da Santa Caterina arrivare teoricamente a Livigno con sci sarebbe veramente il massimo non solamente questo abbiamo chiesto abbiamo chiesto anche di rivedere in modo univoco quelle che sono le concessioni perché ovviamente le concessioni vengono dati dai comuni o nei casi specifici se supera vi sono due comuni la dà la provincia quindi rivedere le concessioni in toto tempi di durata e stesso criterio nel rilasciarle che ovviamente non possiamo pensare che vi sono delle realtà dove hanno un canone notevole alti quindi una serie di problematiche compreso anche quindi andando a rivedere le concessioni anche tutte quelle che sono le varie agevolazioni concesse sul territorio perché attualmente ogni singola stazione adotta misure diverse quindi questo vi penalizza esatto molto chiaro però vi è un'altra novità importante che esce da IAFav non so se in questo caso i risultati arrivano dagli uomini oppure sono questioni di idee però un altro aspetto molto importante è la commercializzazione avete pensato di istituire una sorta di agenzia non so se è giusto chiamarla così per commercializzare questo prodotto allora diciamo che noi tutti eravamo in attesa che nascesse la Borbio Market dove ci si augurava che nella Borbio Market vi era anche la parte promo commercializzazione purtroppo sono nati purtroppo per fortuna non lo so ogni comune ha scelto di fare la propria proloco che però serve a far vivere il territorio ma di fatto non viene al progetto al momento non vedo dove c'è comunque la commercializzazione in attesa del punto che si vada che questa cosa possa nascere noi una delle cose che ci siamo prefissi è proprio stata quella di creare una struttura commerciale che ovviamente non è che andiamo a vendere gli impianti da sci dobbiamo trovare delle soluzioni per quanto riguarda il discorso ricettivo che poi non siamo noi direttamente come associazione andiamo a valerci di altre strutture comunque il progetto prevede anche una parte commerciale noi già da subito ci stiamo attivando per creare queste figure che vadano a promuovere e commercializzare il territorio quindi andrete a sostituirla a Bormio Marketing non è che andiamo a sostituirla noi c'è un programma che possa nascere e crescere da subito noi partiamo anche con la commercializzazione quindi creerete una struttura con dei professionisti che si occuperanno della vendita di questi servizi esattamente ritenendo anche che già c'era però sicuramente sarà ancora più messa in evidenza la possibilità che perché Bormio è un territorio unico credo nelle Alpi dove comunque vi è la possibilità di oltre alle teste che ho citato prima di poter scegliere anche la tessera attualmente chiamata Bormio Pasma rimarrà questo per quanto riguarda il nome e il logo che vi è la possibilità di scegliere se sciare o se andare invece alle terme abbiamo parlato prima ha anticipato prima della nascita di questa tessera che è invece una tessera che propone 10 servizi da utilizzare dove si vuole giusto? certo di che si tratta? beh la tessera poi sicuramente Valeriano lo comunica meglio di me è sicuramente un prodotto unico nel senso che non credo che ci sia località al mondo che abbia la possibilità di porre all'interno della stessa tessera la possibilità di andare a sciare o andare alle terme è chiaro che al cliente che sta un giorno questo diventa magari un po' complicato ma il cliente che risiede tra noi 3, 4, 5, 6, 7 giorni l'offerta che può ritrovarsi all'interno di questa tessera è sicuramente importante perché poter andare alle terme in un giorno di brutto tempo un giorno come può essere oggi dove c'è del vento in quota ai clienti offre un'alternativa importante permette ai clienti di far vivere il territorio questo è importante perché abbiamo la necessità e l'obbligo di far vivere in un territorio unico secondo me straordinario che pochi altri hanno ce lo diciamo sempre ma poi facciamo davvero fatica a valorizzarlo e questo è un demerito nostro non è un merito è sicuramente un merito quello di avere un bel territorio un demerito nostro quello di non saperlo vendere di non saperlo vendere di non saperlo comunicare questa scelta permettemi di dire Valeriano un pochettino forzata che loro si sono trovati a fare sulla commercializzazione è dettata anche ad una necessità assoluta loro hanno bisogno di fare passaggi sugli impianti Valentino diceva prima noi cercheremo di vendere il più possibile non la giornaliera ma più giorni all'interno di questa tessera è chiaro questo la conseguenza più immediata è che gli stessi alberghi si troveranno probabilmente più persone in albergo chi è inserito nelle case vacanze avrà possibilità di fare probabilmente più soggiorni e mettono in moto un sistema come dicevamo prima assolutamente necessario per creare quei volumi e quei margini che oggi sia gli impianti ma anche le strutture berghiere o commerciali non hanno per sostenere le loro attività questo è un ulteriore sforzo che loro hanno fatto perché questa necessità è assolutamente impellente nell'incontro che abbiamo fatto in comunità montana con le amministrazioni d'altro canto come diceva prima Giacomelli loro partono ma sono disponibili a confrontarsi qualora un progetto più importante come quelli di volume marketing possa riprendere il percorso mi auguro che questa loro iniziativa possa aiutare doverosamente anche a riprendere questo percorso perché ne abbiamo assolutamente bisogno intanto però loro hanno detto noi dobbiamo partire non hanno tempo da perdere anche perché credo che ne sia già stato perso a sufficienza sicuramente noi l'obiettivo principe oltre speriamo di ottenere in parte quello che abbiamo chiesto noi ci auguriamo tutto per quanto riguarda le istituzioni ma la base è quella di avere proprio una struttura commerciale che possa da subito andare a promuovere noi verifichiamo e vediamo che abbiamo perso oppure non siamo in grado di raggiungere i mercati stranieri che non abbiamo e noi crediamo fortemente di andare a promuovere questo nuovo prodotto e sperando dalle figure che andiamo a individuare in grado di poterlo fare ecco Valeriano qui la tessera che propone quei dieci servizi ci vuol dire velocemente qualche cosa perché siamo in chiusura ma abbiamo ancora due o tre cose importanti la tessera Bormio Pass è una tessera che permette di aggiungere ulteriori servizi rispetto a quello che è poter sciare sulle località che mi hanno citato quindi tutte e in più poter andare anche alle terre Magni Nuove Magni Vecchi o nel caso volessimo anche alle terme di Bormio anche Magni di Bormio vi è la possibilità che l'utente possa scegliere su una semplice card quindi una tessera normalissima dai due agli otto servizi dai due agli otto servizi poi può essere ampliata vogliamo l'utente può scegliere ogni volta che va a sciare prende e va a annullare il servizio se va per le termine l'uno all'altro può essere usata nella durata massima al momento è di otto giorni è di otto giorni e può essere usata anche nello stesso giorno ma il beneficio qual è? che comunque è un prodotto interessante anche in termini economici basti dire che in momento di alta stagione faccio un esempio banale però per dire un'idea l'altra stagione la tessera giornaliera costa 42 euro andare alle terme costa 47 euro credo tenga presente quando uno fa acquista una tessera 6 servizi mediamente ha un valore medio per servizio quindi sia che incide circa 31 euro a servizio quindi diventa anche molto interessante con molto pil ma non solo è un prodotto che non vi è da nessun'altra parte quindi noi crediamo fortemente di poter oltre al discorso della tessera comprensoriare poterlo utilizzare e promuovere questo prodotto che vi è già da tempo ma mai conosciuto nemmeno degli operatori del territorio insomma bisogna dirle le cose bisogna comunicarle Valentino Galli da questo progetto resta esclusa Livigno potrebbe essere un obiettivo? prossimo? siccome abbiamo già fatto un esperimento di unificare tutta l'Alta Valtellina compreso Livigno ed è naufragato diventa molto complicato il trovare un'intesa principalmente perché di qua del Foscagno siamo esenti da IVA e di là invece c'è anche da pagare l'IVA e quello rappresenta sicuramente un ostacolo importante però io credo che attualmente non siamo in quel di Livigno non siamo in grado di recepire un discorso più ampio di carattere chiamiamo comprensoriale per il fatto che la collaborazione ha spostato alcuni valori che io chiamerei anche marginali a favore di quegli impianti che lavorano poco cioè la tecnica era che attraverso la cosiddetta formula di sostegno che andava a remunerare gli impianti con scarso traffico in modo più sostanzioso per la prima fascia di passaggi registrati questo discorso che avrebbe dovuto essere una una sorta di sussidiarietà tra Livigno e l'Alta Valle non è entrato come concetto è stato direi strumentalizzato in senso molto negativo nei confronti degli impiantisti di Livigno perché in effetti dovevano mettere qualcosa di proprio sul piatto per mantenere questo progetto e il concetto di aiutare tra virgolette perché qui praticamente è una linea politica di sostegno a chi fa meno già presente da noi comunque nell'applicazione nell'attuazione ha comportato degli scompensi e ha portato alla fuoriuscita dallo Schipas unico per tutta l'Alta Valtellina questo è stato ed è oggi credo l'ostacolo principe di tutto questo collegamento poi adesso praticamente Livigno mi pare di poterlo dire che è votato al sistema a passaggi di là invece siamo orientati verso il sistema a giornate diventa un'ulteriore difficoltà anche quella l'intescambio bisogna dire che l'intescambio tra Livigno e Bormio e Valli c'è già è rimasto però sarebbe interessante una testa dove è compreso anche Livigno è una convenzione a giornate sì è una convenzione a giornate sì però in questo senso verremo a fare lo scontro tra due sistemi quello a tempo con quello a passaggi che rappresenta una grandissima difficoltà però diciamo che con una risoluzione diciamo tecnica si potrebbe arrivare anche a questo prodotto voglio dire non c'è un ostacolo quindi di strategia sicuramente no anche perché c'è già da anni la testa che vale come dicevo prima appunto Bormio bisogna trovare il meccanismo in questo momento non è il meccanismo quindi ci aspettiamo che si possa arrivare anche lì se forse collegamenti diventa una cosa normale non vi è solamente collegamento con gomma e quindi qualche problema c'è però c'è la volontà anche di raggiungere questo obiettivo molto chiaro un problemino l'abbiamo riscontrato in questi giorni sul discorso dalla concessione delle tessere schippa sfria operatori di Val di Dentro o dall'associazione case vacanza c'è stato chi ci ha comunicato che i clienti loro malgrado l'offerta di poter venire a Livigno hanno rinunciato al soggiorno in Val di Dentro perché è troppo oneroso il trasferimento da Val di Dentro a Livigno bisogna riflettere su questo faccio per dire che i primi contatti che si sono registrati hanno evidenziato questa difficoltà anomalia nella gestione per cui bisogna tornare a andare a Bormia con gli sci comincia a venire qualche problemino che prima nessuno aveva tenuto in considerazione e che invece emergono perché questa è normale che uno non abbia la voglia di sobbalcarsi magari un'ora e mezza di trasferimento tra andare e tornare per usufruire di servizi a Livigno questo mi pare che sia emerso abbastanza evidente subito all'estero fanno dei collegamenti in sei mesi chissà che in cinque sei anni non si riesca a ragionare su questo che si possano risolvere questi problemi sarebbe interessante siamo veramente siamo veramente in chiusura però mi sembrava importante farvi ancora qualche domanda velocissima innanzitutto per quanto riguarda i collegamenti se vi sono altre novità sappiamo che come comunità lontana lavorate anche per il traforo lavorate anche su altri fronti perché l'obiettivo è proprio quello di velocizzare di rendere la mobilità insomma efficiente ed efficace per poter risolvere i problemi secondo dal mio punto di vista diceva bene Valeriano quel giorno ci sarà il collegamento ai piedi tutte queste barriere verranno risolte e allo stesso tempo la comunità montana sta lavorando per cercare di migliorare la nostra viabilità perché se non miglioriamo la nostra viabilità i numeri secondo me non cambieranno quindi abbiamo la buona notizia della tangenziale di Morbenio che parte la tangenziale di Tirano sembra buon punto quello che abbiamo voluto riproporre come comunità montana è stato quello di dire ci serve un'apertura nord sul mercato del nord e quindi abbiamo riproposto il traforo dello Stelvio e in questi tre mesi degli obiettivi sono stati raggiunti quindi mi sembra che si sta andando velocemente quindi speriamo di continuare a spingere in questa direzione perché se non arriviamo lì difficilmente miglioreremo i nostri numeri soprattutto uniti perché altrimenti non vi ascoltano Valeriano Giacomelli due dati velocissimi delle stazioni a che punto siamo con i dati stagione attuale sì stagione attuale rimarca qualche problema per il fatto che in questo stagione vi è mancata la neve come sapete non ha mai nevecato quindi stazioni aperte in ritardo quindi se stiamo pressoché salvo Santa Caterina che ha un minimo di aumento ma molto basso le stazioni sono pressoché a livelli dell'anno scorso quindi dati preoccupanti che non danno il segno più dove non ci permettono di fare investimenti è un segno anche meno è un segno meno un segno meno non un segno più quindi è abbastanza preoccupante e l'ordine del l'ordine del 2-3% non proprio però comunque tenendo conto degli aumenti che vi sono è un dato ma volevo dire due parole riguardo appunto sulla viabilità noi ci auguriamo che a presto si riesca appunto passare Tirano Morbegna e quant'altro il progetto che sento dire che si sta parlando dello Stelvio mi auguro che non sia un ennesimo progetto perché credo che se vanno a aprire i cassetti dei vari enti i progetti dello Stelvio ne trovano diversi non vorrei che mettono a budget cifre importanti poi non vengono utilizzate a realizzare le opere non solamente a fare progetti noi abbiamo un'esigenza al di là del Foscagno che è un target di clientela diverso rispetto a Olivigno forse perché li abbiamo abituati nel tempo non lo so morale noi chiediamo se vi è la possibilità per esempio di chi è possessore di un voucher che va in albergo o nel resto al di là del Foscagno riuscire a beneficiare di un abbassamento o togliere il costo per quanto arriva la natura della drossa non sarà possibile non lo so noi lo chiediamo è un'esigenza vediamo anche di valutare attentamente se la terza soggiorno è opportuna è opportuna perché la terza soggiorno serve se poi si fanno dei progetti e si vada nel verso giusto se la terza soggiorno serve solamente per fare vivere il paese forse è da valutare noi vediamo in alcune agenzie lo scetticismo di scegliere la località di là del Foscagno in quanto oltre il tunnel che è quello che paga anche Livigno per amore di Dio vi è la terza soggiorno che su una famiglia incide una famiglia di 3-4 persone quindi un problema reale questo da vedere fino in fondo perché la terza soggiorno dico se serve per un progetto specifico va bene ma se serve solo a tenere un sistema forse è meglio riparlarne infatti ha ragione il problema ha detto bene il problema del tunnel della grossa è un problema che è anche Livigno quindi non si potrà mai arrivare in quella direzione e dire ho uno sconto perché a Livigno 44-45 euro si è calcolato che se uno parte da Belgio arrivare in Altavalle per non dirgli Livigno spende 190 euro quindi siamo fuori mercato il tunnel dello Stelvio è proprio per dire creiamo la concorrenza a una cosa che oggi ormai è una cronistica cosa c'è rispetto al passato bisogna essere un po' ottimisti ci sono i fondi dei comuni confinanti quindi Bolzano ha comunque delle risorse per farlo sembra che sia d'accordo quindi anche io sono convinto ha ragione bisogna fare un progetto perché comunque per realizzarlo purtroppo quelli che hanno stati fatti 10-15 anni fa non sono più attuali però non fermiamoci lì dobbiamo riuscire ad arrivare all'opera però di positivo ci sono i soldi io ho più paura dei burocrati dei funzionari delle carte che ci mettono un anno a passare da un cassetto all'altro Bene siamo in chiusura Valentino Galli c'è una novità che riguarda l'associazione Schipas di Livigno vuol dirci velocemente di che si tratta riguarda le tariffe e l'aumento per il prossimo anno non è proprio una chic questa perché purtroppo siamo pensantemente in ritardo partiamo dal 22 di dicembre data in cui abbiamo iniziato a trattare fatto delle proposte per l'approvazione delle tariffe e venerdì scorso c'è stato un accordo con la pubblica amministrazione e quello rappresenta il punto di partenza per la prossima stagione anche se in realtà noi avevamo già praticamente dato per scontato di arrivare a questo risultato è di nuovo che l'aumento questa volta viene praticamente versato quasi per intero nelle casse del comune che deve in questo momento far fronte a una grana non da poco che si chiama acqua grande benissimo però immagino che qualcosa resterà anche nelle tasche degli impiantisti perché altrimenti sarete soddisfatti sì siamo molto soddisfatti siamo soddisfatti perché pensiamo di aver fatto davvero una cosa buona per il paese secondo me dimostriamo ancora che se siamo uniti riusciamo a risolvere il problema l'impiantista si trova l'anno prossimo ad avere un costo maggiore su tutto il personale perché aderendo al contratto collettivo quindi ha dei costi maggiori noi abbiamo pensato di fare questo accordo con lo Schipas per dare un prodotto maggiore al nostro cliente prima Valentino diceva la grana acqua grande io vorrei che diventi un'opportunità tutti stiamo lavorando per quello ormai l'acqua grande è nostra è di tutti noi è della gente di Livigno lo stiamo dimostrando lo sta dimostrando la gente che ogni giorno quasi 200 250 persone vanno a fare i corsi quindi secondo me l'area è cambiata l'acqua grande viene apprezzata e in questo modo con questo accordo riusciremo ad avere quelle risorse per aiutarci nella gestione quindi riusciremo ad avere anche quelle risorse per aiutarci nella gestione eviteremo quindi di fare diceva bene prima Valeriano la tassa di soggiorno è complicatissima crea dei problemi anche gestionali molto forti con questo accordo riusciamo a a sentirci ancora più nostra l'acqua grande cosa prevede l'accordo l'accordo prevede sostanzialmente la tessera aumenterà di 3 euro 2-3 euro il 2,2% e all'interno della tessera verrà lasciata un'ora gratuita a tutti i turisti di Livigno che acquisteranno le tessere sopra i 6 giorni quindi un prodotto nuovo e questo speriamo che venga apprezzato abbiamo già sentito i tour operator che erano entusiasti della cosa perché ad esempio nelle giornate di brutto tempo potranno usufruire di un servizio che prima non avevano oltre a questo lo Schipas è impegnato a pubblicizzare l'acqua grande sulla tessera oltre a questo lo Schipas ha confermato il contributo all'APT e questo è importante perché la comunicazione è poi di tutti è dell'impiantista dell'albergatore è del commerciante secondo me abbiamo ancora dimostrato tutti che se stiamo uniti ognuno avrà i suoi problemi a seconda di dove si siede se fa l'amministratore se fa il presidente dello Schipas se fosse fa l'albergatore però riusciamo a risolvere i problemi e quindi sono contento speriamo che l'anno prossimo davvero l'acqua grande diventi il punto di riferimento e un'opportunità un qualcosa in più un surplus per la nostra località come era l'idea di una volta e speriamo di realizzarla bene quindi insomma non è proprio una chicca ma qualcosa perché addirittura il contributo per l'APT non è vincolato alla pubblicità questa volta ma è un forfait che si paga senza destinazione c'è leggo chiaramente che verrà destinato a a sostenere i costi di acqua grande ma no ma per volere anche proprio dimostrare quanto quanta buona volontà c'è stata c'è la parte degli impiantisti su su potenziali su lavoriamo sulla statistica di quest'anno facendo quell'aumento che ci ha proposto il comune al massimo introiteremo e questo è molto 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 a rischio perché ripetere una stagione positiva come questa per Livigno sarà molto complicato l'anno prossimo ma tra parentesi questo discorso che rappresenta la quota di rischio a fronte di circa circa 600 potenziali mila euro di introiti in più verseremo 430 mila euro al comune mi sembra una bella cifra e su questa novità posso salutare i miei ospiti quindi un vantaggio anche per i turisti e una tessera insomma che porterà anche appunto l'ingresso in acqua grande quindi molto interessante anche da vendere Valeriano Giacomelli presidente di AIAFAB che io ringrazio la gara di Coppa del Mondo nel 2015 dove verrà disputata? ma a noi non ci hanno chiesto niente so che sono state fatte già le prime riunioni credo arrivata a Santa Caterina in calendario noi non ci hanno nemmeno chiesto io ringrazio Valeriano Giacomelli presidente di AIAFAB consigliere di AIAFAB oltre che presidente dell'associazione Schipas di Livino Valentino Galli buonasera Remo Galli rappresentante anche del comune di Livino non l'abbiamo detto oltre che vicepresidente della comunità montana grazie buona serata e il presidente della comunità montana Raffaele Cola anche voi da casa che ci avete seguito arrivederci